È veramente difficile parlare dopo un pareggio maturato come quello di ieri sera, l'ho vissuto in primis sulla mia pelle, è stata una trasferta bellissima, mi scuso per la voce ma davvero sarà ricordata la serata di ieri, davvero un clima unito, tifosi, squadra e alla fine si è rispecchiato anche in campo quello di cui sto parlando E adesso andiamo a vedere con calma quello che andiamo Un saluto a tutti gli amici del Corner Sampdoriano, prima di iniziare come al solito vi ricordiamo i nostri social Corner Sampdoriano su Instagram ogni mercoledì sera live sulla piattaforma Viola Bando alle cianci, andiamo al dunque, arriviamo al dunque A me viene da dire una sconfitta perché molti parlano di un punto guadagnato ma per me si parla di due punti persi Andiamo con ordine, è una Samp che scende bene in campo, è una Samp unita, finalmente vediamo una squadra che corre e lo fa bene, abbiamo coperto bene gli spazi Abbiamo affrontato un Monza in forma, è una squadra che settimana scorsa ha battuto la Juve ma è l'unica imbattuta nel 2023 È una squadra che comunque ha dei giocatori di qualità e l'abbiamo visto anche all'andata con i tre gol che ci hanno segnato Quindi davvero, era una squadra difficile da affrontare e l'abbiamo anche visto durante la partita Una punta di peso come Petagna, poi Danimota Carvaglio e Caprari che li girano intorno, cioè su Ria Insomma, i giocatori ci sono e sono lì di alto livello È un Monza costruito bene, a centrocampo c'è Pessina, autore del gol del 2-2 Quindi tanta qualità, ci sono anche i giocatori giovani, è una squadra che secondo me ha un buon equilibrio L'equilibrio che si è andato a spezzare ieri però dà la voglia, dall'entusiasmo dei Blue Sharkati Che sono scesi in campo molto bene, a parer mio, come ho detto in precedenza La Samp ieri ha pregiato solamente per un motivo L'ingresso in campo di Nicola Moore, però non voglio spoilerare perché questo lo andiamo a vedere dopo Un primo tempo in cui la Samp crea diversi squilli prima del gol di Manolo Gabbiadini Che arriva con un grande inserimento, un giocatore che sembra rinato e speriamo che lo sia La Samp ha bisogno di i suoi gol La nota positiva è appunto questa, un gol nel primo tempo e uno nel secondo Vuol dire che l'asticella dell'attenzione e della concentrazione si sta alzando piano piano Quindi questo è un segno di presenza, la squadra c'è Così come ci sono i tifosi ma di questo è troppo superficiale parlarne davvero Ho perso le parole e anche la voce Poi il Monza pian piano è venuto fuori, ha trovato il gol del pareggio con Petagna Che si gira bene, ha delle responsabilità a Bran Wintic che ieri non ha fatto un partitone Però non mi sento di crocivigerlo come crocivigerai un certo Nicola Moore E qui arriva il momento più difficile secondo me della gara Ovvero pareggi perché comunque è una bella botta prendere gol da un ex con lo stadio Perché comunque è uno stadio abbastanza vicino al terreno di gioco Quindi senti il calore del pubblico, i tifosi del Monza sono quelli che sono ma comunque ci sono E si fanno sentire In quel momento forse la Samp avrebbe potuto concedere metri importanti Ma non lo ha fatto Perché è una Samp che ha saputo soffrire, ha saputo stringere i denti E ha saputo ripartire come ha dimostrato nel secondo tempo Prima con il tiro al volo di Tommaso Ogello Col pallone che è uscito non so neanche di quanto, non voglio saperlo Perché farebbe aumentare le bestemmie che abbiamo tirato noi Sampadoliani Però davvero molto bene anche Tommaso Ogello Tra poco andiamo a vedere individualmente i giocatori Ma molto bene anche ieri sera l'uomo assist Uomo assist perché serve poi il pallone in mezzo Che porterà alla rete del momentaneo 2-1 Sempre siglata da Manolo Gabbiadini Bravissimo, posto giusto, momento giusto Bello anche lo stacco di Rist se non ricordo male Quindi bene E poi la Samp che deve soffrire Nel frattempo erano entrati i giocatori forse un po' meno forti qualitativamente Ma potevano darti tanta sostanza Nel esempio Rinconne Poteva essere un esempio Quello della che ieri non è entrato come volevamo È entrato Zanoli Verso la fine Nel complesso secondo me la prestazione è stata molto buona Perché è saputo stringere i denti E soffrire fino al 96esimo Di Nicola Murru penso sia impossibile parlarne senza bestemmiare Dico solo una cosa E ci allacciamo al discorso di prima Se Gunther non si fosse fatto male nel riscaldamento Nicola Murru non avrebbe mai giocato questa partita E quindi ritorniamo al discorso che è un filo Tutto torna e purtroppo siamo destinati alla B O almeno questo è quello che vogliono farci pensare Perché i minuti di recupero non sono già finiti Quello che volete Però in campo abbiamo visto una squadra Abbiamo visto giocatori che corrono Giocatori che iniziano a capire che la Samp ha una storia E questo è merito di Dejan Stankovic Che ha fatto un lavoro spettacolare Non parlo del campo Perché anche in quell'ambito abbiamo visto dei miglioramenti Ma a livello psicologico A livello mentale la Samp è cambiata E questo secondo me è merito assolutamente di Dejan Stankovic Che sta lavorando molto bene È tornato agli spogliatori piangendo Dopo il fischio del calcio di rigore Insieme a diversi giocatori Quindi vuol dire che c'è compattezza È quello che vogliamo vedere Adesso ci aspetteranno una gara in casa molto importante contro l'Inter Che è una squadra che ha vinto il derby Che si sta riprendendo È passata anche in Coppa Italia Quindi una sfida difficilissima Dopo l'Inter però in casa ci saranno tutti i scontri diretti Quindi il nostro destino Il nostro campionato si deciderà nelle prossime settimane E dipende tutto da noi Perché secondo me la Samp si gioca come deve giocare Da Decidio da Torcere allo Spezia Che adesso è il numero uno Insieme al Verona Verona è in netta crescita E questo dobbiamo ammetterlo Andiamo a vedere individualmente Chi forse ha fatto peggio Chi ha fatto meglio I nuovi volti Perché dobbiamo parlare anche di Quisans Che è un giocatore che Io vedrei più impingato sulla tre quarti Ha già fatto vedere le qualità È un giocatore secondo me abbastanza simile a Sabiri Diamo di tempo Non giudichiamolo Ieri nel complesso mi è piaciuta la sua prestazione Ha corso Ha fatto vedere delle cose Teniamolo d'occhio È un giocatore che secondo me può far bene Mi è piaciuto molto Sam Lammers Oltre al dio Manolo Gaberini Che ieri sera ha litigato molto con l'arbitro Però doppietta, lavoro, sacrificio L'abbiamo visto impiegato anche diverse volte Nel reparto difensivo Quindi va benissimo Manolo Hai fatto mille Ha fatto mille appunto anche Sam Lammers Il suo compagno d'attacco Ha coperto bene il pallone Forse poteva fare meglio in alcune circostanze Abbiamo visto un Dioricic forse in ripresa Ed è quello di cui avevamo bisogno Perché ultimamente abbiamo parlato di un Dioricic Abbastanza evidente Ma adesso pian piano lo stiamo ritrovando Benissimo Tommaso Ogello Anche se incerto Durante diversi momenti della partita Però nel complesso abbiamo visto una bella prova Forse ecco Collei, Nuntic, Murru Hanno fatto vedere una prestazione Un po' meno performante rispetto alle altre Specialmente Nuntic Ci si aspettava molto di più Dopo il boom delle prime partite Wings come al solito Ha saputo tenere bene il centrocampo Un giocatore che a me sta piacendo tantissimo L'Eris è quel che è Però lotta Quindi è questo che vogliamo vedere Bene Nel complesso è una stampa che mi è piaciuta Importa Caudero Che è un cuore blu cerchiato Che dobbiamo tenerci stretto Ha detto di no alla Premier League Per rimanere qui con noi Quindi è un giocatore Di cui la stampa assolutamente ha bisogno È diventato un leader Tra i peggiori E me devo mettere anche Fabio Cagliarra Allas andiamo a vedere Quello che ha fatto Perché in pochi minuti Non ha saputo tenere un pallone Però io Ho visto anche che si toccava il ginocchio E non vorrei fosse Un brutto presaggio Detto questo Aspettiamo Gunter Perché con lui Il pacchetto difensivo potrà essere completo C'è Amione Che pian piano si sta riprendendo Quindi Quello che dobbiamo fare noi Come al solito È seguirla E amarla Anche In queste situazioni Orribili Detto questo Corner Tattino basso Sam Gioriano Su Instagram Fateci sapere cosa ne pensate Nei commenti Pollicioni su Iscriviti al canale Da Matteo è tutto Da Corner è tutto Sempre Forza Samp